Dubucova dal limite scarica su Klelland cerca lo spazio per il destro Klelland si accentra alla conclusione il gol al 27esimo Lana Klelland ancora lei trova la rete del vantaggio del Sassuolo e Lana Klelland è la prima straniera per il Sassuolo a far gol nelle prime due gare di campionato parte Cernoia che dopo una prestazione strepitosa trova una grande punizione ha flertato col gol nel primo tempo lo trova con questa grandissima parabola 3-0 Valentino Cernoia Sbaglia tutto palla regalata a Salvatore Rinaldi il pallonetto per il gol che di mezzo allo svantaggio del Pomigliano ha segnato Giussi Moraca Salvatore Rinaldi tocca Moraca dai giri giusti al pallone che si spegne alle spalle di Capello grazie a tutti Grazie a tutti.